La presentazione della Giunta, come avete visto, sono tutte persone messe al compito giusto, nel posto giusto. Questa è stata la mia scelta iniziale. Abbiamo fatto un percorso di campagna elettorale insieme e con questo è giusto che siano stati premiati per quello che hanno fatto. Sono convinto che ognuno saprà dare il suo valore e saprà fare bene le idee che sono state fatte. La prima cosa su cui dobbiamo lavorare è la viabilità, che nel programma elettorale è stato il nostro cavallo di battaglia. La riapertura del punto a mulino è sicuramente il punto che dobbiamo da subito darci da fare. Abbiamo l'assessore Mastropieri che se ne sta già occupando in retroscena, che da domani sera potrà finalmente lavorare all'interno degli uffici e sicuramente sarà uno dei primi passi da attuare. Lei ha vinto per 61 voti, il suo ex spirante lo ha detto, un appoggio a Caiano divisa a metà. Allora lei cosa dice alla metà che non l'ha scelta? Allora innanzitutto vorrei fare un passo indietro. È vero che ho vinto per 61 voti, però cinque anni fa aveva vinto per 750 voti. Quindi se vogliamo fare un conteggio generale vuol dire che sono 810 voti che abbiamo spostato in questo tempo. Io non penso che la cittadinanza sia divisa. Io penso che tutti vogliamo il bene del Paese. Qui come sapete le elezioni politiche hanno un numero e le votazioni amministrative ne hanno un altro. Quindi io penso che siamo uniti, come ho parlato anche con il sindaco uscente. Dobbiamo fare il bene del Paese, tutti lo vogliono, dobbiamo lavorare per poter riuscire a mettere in piedi quello che abbiamo creato e comunque anche dare un proseguimento a quello che è stato fatto. Noi non siamo a prescindere, diciamo no, questo non è giusto perché è stato fatto prima. Se le cose che sono state precedentemente pattuite hanno un senso, noi le porteremo avanti per tutti i cittadini. Tra i progetti che stanno andando avanti, che sono stati tra i cavalli di battaglia appunto dell'ex sindaco, quello di Piazza 20 Settembre che lei ha subito avversato, farete qualcosa per fermare quella riqualificazione oppure no? Allora sicuramente il progetto lo prenderemo in mano da lunedì, ci sono le persone apposite che le faranno. Lo vorremmo rivedere per entrare un attimino in economia perché comunque è un progetto costoso che come ho detto dal primo giorno, secondo me e secondo molti cittadini, non è necessario a questo Paese. Quindi lo riprenderemo in mano, vedremo se sarà possibile fare dell'economia all'interno, la faremo sicuramente.